La Giunta regionale toscana ha stanziato 10 milioni e 580 mila euro per sostenere gli investimenti nel sistema degli impianti e degli spazi sportivi pubblici in Toscana. Potranno beneficiare dei contributi comuni, province, la città metropolitana di Firenze per progetti di nuovi impianti oppure di ampliamento, recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e altri interventi di quelli già esistenti. Rivedere il manto del campo di calcio, la pista dell'impianto di atletica, il fondo o tutto ciò che è manutenzione per una palestra e questo perché come regione toscana vogliamo dare proprio allo sport di base un forte respiro. I progetti dovranno essere già cantierabili e il contributo massimo previsto è di 400 mila euro. I lavori dovranno iniziare entro il 2021 ed essere completati entro il novembre 2022. Il contributo è previsto anche per opere già iniziate oppure già finite purché la conclusione dei lavori sia avvenuta nel 2021. La regione ha deciso di incrementare anche le risorse per i contributi diretti alle 10.500 società sportive toscane iscritte al CONI. Sono arrivate ad oggi 2.000 richieste. Noi cerchiamo di promuovere in modo diffuso il territorio dello sport che è qualcosa di molto significativo. In una regione come la Toscana l'abbiamo visto non solo per i risultati olimpici ma lo abbiamo visto soprattutto perché proprio dalla Toscana lo sport di base, non solo il calcio, riceve una grande spinta.